E' stata identificata la vittima del drammatico schianto in A1 tra Monte San Savino e D'Arezzo. Si tratta di un cittadino cinese di 44 anni, probabilmente la guida turistica. Era arrivato da pochi giorni in Italia assieme agli altri turisti. Il gruppo aveva visitato Roma, poi era salito sul pullman in direzione Firenze, ma al chilometro 360 in direzione nord il terribile schianto contro il guardrail che come una lama ha trafitto il muso del mezzo non lasciando gli scampo. Dall'azienda sanitaria invece nelle ultime ore sono arrivate notizie positive. Tutti dimessi i pazienti negli ospedali San Donato di Arezzo e Santa Maria Lagruccia in Valdarno. I dimessi sono rientrati nell'albergo fiorentino nel quale avrebbero dovuto alloggiare già da domenica sera. I feriti più gravi portati a Siena sono comunque fuori pericolo di vita. Dopo l'incidente era stato subito attivato il piano delle maxi emergenze con medici, infermieri e volontari a far da spola dal pullman agli ospedali allertati. La procura di Arezzo intanto ha già avviato un'inchiesta per omicidio stradale. Il 60enne autista polacco alla guida del mezzo dovrà chiarire gli interrogativi sull'incidente. Al momento la polizia stradale di Arezzo non esclude alcune ipotesi, un malessere, una distrazione o un colpo di sonno. Come da prassi sono stati disposti gli esami tossicologici, i cui risultati arriveranno nei prossimi giorni.